...canderà mille pazziglie. Bravo! È bravo! Facendo tutte le stesse, tutte le stesse da voi, ma ai potessi grega le vicine, vaicolvera non passiamo, ma deve stare al punto d'attenzione, perché se c'è l'ho aperta, ma se c'è l'ho aperta. Sono prodotto, mi non è che nessuno mi è sanno, è la sua borde, è la sua borde, è la sua sua borde. Non si può erano, non si può erano, si potessi rinforzare, non si può erano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.